Ciao a tutti da Chris A.T.G., il salvatore del blog, grandissimo scoop all'inaugurazione del Dubai Cafe, Riccardo Modessi che ha una sorpresa per voi, un saluto a tutti gli amici di YouTube, ma io lo chiedo a te perché di solito lo diciamo insieme, facciamo una cosa bella, YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn per tutti i quali. E poi salutiamo gli amici del Vini Roma, sicuramente, facciamo un po' i seri, salutiamo tutti gli amici di Massimo Marino che è una mia creatura devo dire e questo mi fa molto piacere perché è l'unico che porta avanti il discorso della notte dove io naturalmente l'ho fatto tanti anni fa e lui forse è rimasto l'unico che porta avanti questo discorso molto divertente che ci vuole perché Roma non è solo delinquenza, Roma ci sono i locali dove si sta bene, per cui però a noi, io continuo a dire, lo continuo a dire sempre, il mondo della notte è sempre quello martoriato da tutti, non è vero, il mondo della notte se si è bravi naturalmente il mondo è bellissimo, secondo me il mondo più bello è il mondo della notte e Massimo Marino gli faccio un complimento perché a parte è un mio amico ma è l'unico che è rimasto a fare così, a far conoscere il mondo della notte alle persone che poi magari non possono uscire di casa, stanno a casa, sono malati, poliziotti, e lui è uno di tutti che ha fatto conoscere il mondo anche con la rivista per lui, per cui Massimo Marino ti ringrazio, ciao a tutti quanti, Riccardo Modessi, Rubai Caffè, Cristian TJ, ciao ciao a tutti, grazie Riccardo, grazie a voi, ciao grazie